Celebrazione particolarmente vivace e colorata, quella di stamattina in piazza San Pietro. Il Papa afferma che tratto distintivo del Dio di Israele è la sollecitudine per i più vulnerabili, forestieri, orfani e vedove e che anche a noi il Signore domanda di mettere in pratica la carità verso di loro senza lasciare fuori nessuno. Ma, afferma Francesco, è necessario anche riflettere sulle ingiustizie che generano esclusione. Il mondo odierno è ogni giorno più elitista e crudele con gli esclusi. Ma come cristiani non possiamo essere indifferenti di fronte al dramma delle vecchie e nuove povertà, delle sollecitudini più buie, del disprezzo e della discriminazione di che non appartiene al nostro gruppo. Non possiamo rimanere insensibili con il cuore anestetizzato di fronte alla miseria di tanti inocenti. Non possiamo non piangere. Non possiamo non piangere. Non possiamo non reagire. Chiediamo al Signore la grazia di piangere. Quel pianto che converte il cuore davanti a questi peccati. Dio vuole, dice il Papa, che ci impegniamo nella costruzione della famiglia umana, dove tutti sono fratelli, figli dell'unico Padre, e conclude affidando a Maria, migranti e rifugiati, abitanti delle periferie del mondo, e tutti coloro che si fanno loro compagni di viaggio. Grazie a tutti.